Simone Pesce, la partita di oggi della Propate lascia la mare in bocca, un episodio ha spezzato l'equilibrio che c'era in campo. Sì, no, lascia la mare in bocca, sicuramente l'episodio cambia la partita perché rimanendo in dieci fai più fatica, affrontavamo una squadra che comunque era molto in salute, quindi sapevamo che era una partita dura, però la partita era in equilibrio, è stata decisa da un episodio in dieci e poi da una palla inattiva e questo è un po' il rammarico che abbiamo, sicuramente in questo momento non siamo nel nostro momento migliore, ma non parlo di condizione fisica, nel nostro momento migliore è psicofisico, è così, ci sono nel calcio questi momenti e quindi bisogna avere fiducia, bisogna lavorare di più, analizzare gli episodi, analizzare i momenti della gara, però essere convinti, avere fiducia e ricordarsi del percorso che abbiamo fatto, quindi fa male perdere perché dà fastidio a tutti, soprattutto in casa, però martedì si deve ripartire, analizzando soprattutto gli errori e se è possibile comunque analizzarli e dirceli anche in faccia se abbiamo commesso degli errori, però da lì si riparte con fiducia, come ha fatto sempre questo gruppo perché comunque siamo già stati in un periodo di difficoltà e ne siamo usciti con il lavoro di tutti. Una fiducia che nasce anche dalla reazione che c'è stata dopo la rete subita, nonostante l'inferiorità numerica, la squadra si è proposta in avanti, ha cercato di creare gioco, è rimasta compatta, non di meno il gol del 2-0 è arrivato poi in contropiede alla fine. Il gol del 2-0 non è nemmeno giudicabile, ci può stare a 30 secondi dalla fine, ma sì, in 10 sembrava forse che avevamo più il pallino del gioco rispetto a loro, peccato per quella palla inattiva che secondo me ci ha un po' scoraggiato, però il calcio è anche questo, bisogna curare i particolari e le palle inattive nel calcio di adesso hanno un ruolo fondamentale perché sbloccano tante partite e quindi sono una fase importante di gioco. Il poter affrontare con tranquillità questo momento comunque magari un po' delicato è frutto anche del grande lavoro svolto prima? Sì, no, no, è del lavoro fatto fino adesso, per tranquillità non intendo che dobbiamo andare al campo e sorridere, che vada tutto bene, per tranquillità dico che bisogna lavorare con fiducia, bisogna sapere che abbiamo fatto un percorso importante, che abbiamo 42 punti, che il nostro obiettivo è la salvezza da raggiungere se possibile il prima possibile e quindi questo è quello che ci deve dare fiducia, poi in questo momento dobbiamo fare qualcosa in più, qualcosa in più significa andare a curare i dettagli, significa che forse ti devi allenare un pochino più forte, devi fare qualcosa di più e questo lo dobbiamo capire noi dentro lo spogliatoio, ci dobbiamo parlare come abbiamo sempre fatto, si analizzano gli errori e da lì si riparte, ma veramente, totalmente con chiarezza e con massima fiducia. Grazie. Niente.